Ristretto Italiano, edizione Whatsapp. Domino's Pit, la storica catena americana sbarcata in Italia nel 2015 e nelle cui intenzioni c'era l'apertura di 900 locali entro il 2030, alza bandiera bianca e batte in ritirata. Ne parla dalla Francia Le Figaro, che si chiede, non so quanto ingenuamente, come mai da noi la pizza americana non abbia avuto fortuna. Del tipo, quando una pizza all'ananas in Italia incontra una margherita, la pizza all'ananas finisce nel secchio. Ad ogni modo, evitato dalla gente, scrive il quotidiano parigino, Dominos, che ha individuato le ragioni della crisi, nella pandemia ha chiuso anche l'ultimo negozio. E, strano ma vero, ci sono stati degli affissionados che hanno protestato. Recoaro Terme è baciata dalla cosiddetta lotteria del Next Generation EU. Primo paese beneficiario dei fondi europei, un miliardo del recovery fund a noi destinato è per il rilancio dei villaggi abbandonati. Un milione e mezzo per 250 paesini e 20 milioni ai quali ha diritto uno di essi per ogni regione. E Recoaro, appunto, è quello individuato dalla regione Veneto. Per questo, Radio France Internationale ha bandato l'inviato in quello che nel secolo scorso fu uno dei più prestigiosi centri termali dell'Italia settentrionale. Negli anni Sessanta, e i meno giovani come me lo ricorderanno, fu a lungo anche la tappa finale del Cantagiro, col conseguente rilancio pubblicitario in televisione. A Recoaro, dice il sindaco al giornalista francese, non c'è stato alcun ricambio generazionale, con i giovani che se ne sono andati e nessuno che abbia preso il loro posto. E con i turisti che non vengono più. Erano 200 mila appena 25 anni fa nel 1997, oggi sono 15 mila. Oggi la città porta i segni della disaffezione con i ristoranti chiusi che non si sono riconvertiti e con le terme attualmente chiuse al pubblico in un triste stato di abbandono. Ed è da qui, con la costruzione di stabilimenti di nuova concezione, che dovrebbe partire il rilancio di Recoaro. Una Panda anni 90, in colore verde perra scuro, minuscole ruote bianco crema, un portapacchi e una ruota di scorta. E' questa l'auto che ha fatto innamorare Inie King, nota influencer coreana con ufficio a New York, a Los Angeles, a Parigi e con un debole per le auto disegnate con le linee rette, tipo Ferrari Testa Rossa per intenderci, o il Defender della Land Rover. Ma questa è una Panda dal volante in legno, luci posteriori rettangolari, cruscotto completamente aperto, sedile a panca con schienale ribaltabile, perfetta per il pendolarismo urbano e le gite fuori porta. Ne parla Bloomberg dagli Stati Uniti che la signora King l'ha intervistata. Queste piccole due porte negli Stati Uniti sono molto rare, visto che nessuno le ha mai vendute nuove, ma nel corso degli anni sono diventate un ricercato oggetto di collezionismo. La uso molto a Manhattan, ha detto l'imprenditrice, non è veloce ma è una macchina speciale. Poi ha precisato di aver acquistata in Italia da tal Flavio Guandalis che gliel'ha restaurata, riarredata, non so se questo sia il verbo giusto per le macchine, e viene spedita a New York per la modica cifra di 25.000 dollari. Penso che in fondo si potesse fare. Ecco che cosa portare a casa dal tuo viaggio in Italia. Lo consiglia ai suoi lettori la testata digitale News Bites dall'India. Per cominciare, un profumo. Oltre ai marchi globali come Gucci e Dolce Gabbana, in Italia potete testare acqua di Parma, che è locale. Poi un pacco di pasta da cucinare nei momenti di maggiore nostalgia. Ce ne sono di tutti i formati. Si consiglia di evitare quelli espressamente per turisti. Se passate a Firenze, considerate seriamente un articolo in pelle. Cinture, borse, borsette. Soggiornando a Venezia, non trascurate un oggetto, anche piccolo, in vetro di Murano, inclusi posacenere, tazze e portachiavi, occhio al marchio di autenticità. E poi un cappello, che durante il viaggio vi proteggerà dal sole e al vostro ritorno farà tanto esotico. Vi saluto qui, con tanta voglia di vacanze. Ci risentiamo domani. Buona giornata a tutti. Ristretto Italiano di Ruggero Po